Una notazione istantanea sulla relazione che ho appena ascoltato. Un dossier stampa, sulle critiche, avete sentito quante, quante discussioni, a non finire, una quantità impressionante di articoli, paragonata al presente, è vero che sono passati 70 anni, però sembra di vivere in un'altra era, cioè sto parlando della critica musicale che praticamente non esiste quasi più. E uso il quasi con una certa nostalgia e indulgenza. Ma è la storia. Schoenberg e Stravinsky, vorrei legarmi strettamente alla città nella quale ci troviamo e vedere come i due musicisti convivono in qualche modo in questa realtà. Innanzitutto vorrei ricordare che Schoenberg e Stravinsky si sono incontrati realmente, parlandosi, una sola volta nella vita, una sola, nel 1912 a Berlino, alla Crollopera in occasione della rappresentazione di Petrushka. Si incontrarono, parlarono e sembrava che nascesse un'amicizia. Poterono parlarsi bene perché Stravinsky parlava un tedesco eccellente, non solo, ma lo parlava come una lingua madre, lo aveva appreso dalla sua governante, questa Berta Essert, che era una prussiana. Poi il rapporto sembra nascere molto bene perché pochi giorni dopo Stravinsky va alla Coralion Sala a vedere Piero Lunair, al quale dedicherà poi Stravinsky, nelle sue memorie, nei suoi ricordi, delle definizioni storiche, tipo plesso solare della musica e così via. I rapporti furono buoni, cordiali, ancora per qualche anno. Schoenberg dirigeva a Vienna, aveva fondata lui un'associazione per le esecuzioni della musica contemporanea, dove fu invitato Stravinsky, perlomeno fu eseguita delle musiche di Stravinsky. Poi la guerra e poi i percorsi dei due si allontanano, si incontrano, o meglio si sfiorano, qui a Venezia nel 1925. Nel settembre del 1925 a Venezia si tiene il Festival della SYNC, che vuol dire Société Internationale de Musique Contemporaine. Schoenberg viene qui a Venezia e dirigerà la sua serenata opera 24. Sappiamo, si sa benissimo che, questo avvenne il 7 di settembre, sappiamo benissimo che Stravinsky era qui, era a Venezia con Vera. Curiosamente i due, sia Schoenberg che Stravinsky, vennero a Venezia in quel settembre del 1925, quasi come un secondo viaggio di nozze. Schoenberg aveva sposato Gertrude Kolisch l'anno prima, Stravinsky era già sposato, ma venne con Vera, e la sua relazione era un po' agli inizi, e fecero un bel viaggio in auto venendo fino a Venezia. Insomma, il 7 di settembre, quando Schoenberg presenta la sua opera, lui non c'è. Il giorno dopo tocca a Stravinsky, non ho il tempo di raccontarvi, ma tutta questa leggenda del dito, con l'infezione, eccetera, che sembrava che non potesse suonare, poi all'ultimo momento davanti al pubblico dice, ecco, e si mette lì e suona la sua sonata. Schoenberg, con buonissima correttezza, è presente in sala e ascolta Stravinsky, che suona la sua sonata per pianoforte. Però dopo non si sono parlati. Sappiamo che era presente, e sappiamo anche le sue reazioni, le sappiamo indirettamente, perché c'è una lettera di Webern a Albanberg, nella quale gli riferisce l'opinione del maestro. In questa lettera, testualmente, Schoenberg parla del disastro della musica contemporanea, compreso Stravinsky. Disastro della musica contemporanea, quindi. Qualche mese dopo, queste sono cose note, Schoenberg comporrà le tre satire per coro a cappella, una delle quali si intitola Filzaitigkeit, che vuol dire non solo versatilità, ma direi capacità di adattamento, in questo senso. Dove c'è una palese caricatura di Stravinsky, attraverso il nome Modernsky e così via. Questo è noto. Quello che vi ho appena raccontato, si può leggere in tanti libri, insomma, ecco. C'è però, pochissimo tempo dopo, nel novembre dello stesso anno, sempre del 25, un episodio che invece è pochissimo noto. Siamo il 17 di novembre a Wiesbaden. C'è un concerto diretto da Otto Klemperer, il cui programma, sentite un po', comprende Stravinsky, il concerto per pianoforte e fiati, e lo suonava lui, quindi era presente, e Pulcinella. E poi comprende i due corali di Bach, orchestrati da Schoenberg, Schmucke dich, o liebe Seele, e Kont Gott Schöpfer Heiliger Geist, orchestrati con grande organico, grande orchestra sinfonica. Quello che, appunto, è una notizia così pochissimo conosciuta, è che alle prove in sala, dopo avere provato i due corali orchestrati da Schoenberg, Klemperer sente Stravinsky esclamare testualmente, Dio mio, questi due lavori di Schoenberg sono bellissimi. Questo è riferito, è da persona degna di fiducia totalmente, dal critico inglese Peter Hayworth, che io conobbi anche personalmente, in un libro intitolato Conversation with Otto Klemperer. E qui, credo, dobbiamo partire da qui, da questa frase pronunciata nel silenzio e nel buio del teatro durante le prove. Stravinsky, in sostanza, ammette che Schoenberg ha con Bach un rapporto privilegiato e Schoenberg, intendiamoci, ne è perfettamente consapevole, è arci convinto di essere l'erede spirituale di Giovanni Sebastiano Bach, come ci dice lui stesso in un articolo che scriverà nel 1931, che però resterà a lungo inedito, pensate che verrà pubblicato soltanto nella biografia di Josef Ruffer, quindi nel 59, dopo che l'autore era già morto, eccetera. Ma è uno scritto che noi oggi possiamo leggere in traduzione italiana, nel corpus intitolato, quello che una volta era Stile e pensiero, un articolo che si intitola Musica nazionale, dove Schoenberg dice i miei maestri sono stati in primo luogo Bach e Mozart. Da Bach ho imparato uno, il pensiero contrapuntistico, vale a dire l'arte di inventare gestalten, cioè delle forme, che possono fungere da accompagnamento di se stessi. Due, l'arte di produrre tutte le gestalten, partendo da una sola e di combinarle fra loro. Questo lo dice categoricamente Schoenberg, proclamando proprio la sua filiazione diretta. Ora, è chiaro che Stravinsky quella sera a Weimar riconosce come dire non so, la priorità di Schoenberg, ma comincia qui una partita in un certo senso, una partita sotterranea mai dichiarata, ma quanto mai vera e coinvolgente, sull'avvicinamento a Giovanni Sebastiano Bach. È anche comprensibile, se ci pensate, perché siamo nel 1925, quindi siamo nel periodo neoclassico, e non c'è bisogno di molte spiegazioni per comprendere che il culto di Bach da parte di Stravinsky era destinato a crescere man mano che si addentrava nell'orizzonte neoclassico. È normale, è fatale, insomma, che le cose vadano così. Quindi cresce questo culto e si trasformerà col passare del tempo addirittura in un assillo. Cito soltanto a un passant, per esempio, nel 1937, pensate a Dombarton Hawks, che è un palese sintomo di questa condizione che ho cercato di descriversi. ma e qui ci ritorniamo a Rex Progress, è proprio nella crisi che Stravinsky attraversò dopo Rex Progress che il rapporto con la musica di Bach diventa quotidiano, tutti i giorni, si può dire. Non passa giorno senza che Stravinsky si metta al pianoforte, a volte con Bob Craft a quattro mani a leggere Bach. Tornando a quelle bellissime vacanze romane che ha ricordato questa mattina con tanti deliziosi dettagli Marcello Panni, pensate che nel 54, dopo aver fatto queste bellissime vacanze alle quali faceva seguito una tournée, naturalmente, come direttore d'orchestra, Stravinsky parte, prende l'aereo a Lisbona, arriva a New York e poi New York cambia aereo e arriva a Los Angeles. Viaggio incredibile. Non era mica più giovane, siamo nel 54. Arriva a casa e dichiara che non è affatto stanco e dice a Bob Craft voglio proprio suonare un po' Bach e si mettono al pianoforte a quattro mani e che cosa leggono? Leggono von Himmelhoek da come ich her. Siamo nel 54 e Craft dopo avere suonato col maestro dice eh ma dovresti o dovrebbe non so se si davano del tu de lei forse lo sa in inglese sì certo ma certo dovrebbe diciamo dovresti in senso lato dovresti orchestrare questo e l'altro già da un po' ci pensava aveva in mente questo progetto ma non riusciva ancora a chiarirsi bene come si chiarirà questo progetto di orchestrare questo corale l'anno dopo altre vacanze romane altra tournée e questa volta arriva a Roma Piovesan da Venezia con la commissione del Canticum Sacrum che ancora non si chiamava così era semplicemente la commissione di un come dire di un lavoro di carattere sacro da eseguirsi in San Marco possibilmente come si è ricordato questa mattina e Stravinsky ci pensa seriamente e sappiamo come il progetto si è evoluto e così via conosciamo bene l'organico del Canticum Sacrum un organico piuttosto originale come sapete ci sono i fiati i legni per due neanche tutti non ci sono i clarinetti ci sono invece gli ottoni ci sono tre trombe tre tromboni c'è un'arpa e poi solo come archi le viole e i contrabbassi questo è una tavolozza diciamo così molto stravinschiana veramente molto originale ecco che mentre lavora al Canticum Sacrum con questi strumenti in mano con questa tavolozza come dicevo ecco la trovata questa è l'orchestrazione che va bene l'organico perfetto per trattare von Himmelhock da come ich her e non naturalmente la grande orchestra sinfonica e così via perché è l'organico ideale non solo perché ce l'aveva sul tavolo ma anzi si vede la capacità geniale di Stravinsky di fare scattare queste coincidenze perché questo è un organico tutto suo è un organico che gli permetterà magnificamente di infiltrare nel tessuto Bachiano la sua musica la sua personalità il suo intendimento a questo punto non è più quello di orchestrare Bach è molto di più e di convivere a tanti anni di distanza a duecento anni di distanza con la musica di Bach questo è il suo obiettivo e questo quindi sarà l'organico ideale perché sarà quello che gli permetterà di infiltrarsi magnificamente avere delle fasi diciamo assolutamente stravinschiane delle altre in cui si vede sullo sfondo invece la figura Bachiana e così via c'è anche una certa dose di giusta ambizione che ci ricorlega a questo confronto con Schoenberg pensate che il corale che peraltro non compare subito nell'originale Bachiano ma viene citato dopo invece Stravinsky lo mette subito il corale che in Bach era trattato a quattro voci qui all'inizio invece passa a sei voci quindi è un contrapunto più complesso grazie alla presenza delle tre trombe dei tre tromboni quindi viene fuori con una solennità tutta speciale molto stravinschiana per davvero ora tutto quello che segue poi il trattamento delle cinque variazioni anche questo non è un caso le cinque variazioni sono disposte secondo dei criteri un ciclo tonale eccetera ma adesso non voglio entrare nel dettaglio però sono come dire un disegno una struttura pentadica eccetera che consente di creare tutto di attivare un gioco di riflessi in cui sono le immagini di Bach e quelle di Stravinsky che a volte si sovrappongono a volte si allontanano e così via è molto è molto contento del risultato Stravinsky quando finisce quando mette le due barre di chiusura alla partitura è veramente contento del risultato di questo von Himmelhoch da come ich er e scrive dopo avere alla fine della partitura scrive con la sua mano proprio in tedesco quindi nella lingua del Cantor di Bach cioè mit genemigur Jung der Meisters che a tradurlo proprio bene vorrebbe dire qualcuno dice col gradimento credo che sia il vero significato è con l'approvazione con la stima del maestro mit genemigur e questo è un'affermazione di giusto orgoglio cioè quella partita quella contesa antica con Schoenberg che era iniziata tanti anni prima trent'anni prima qui a Venezia si conclude qui a Venezia in questo modo ma non c'è un'altra cosa che vorrei dirvi per concludere questo questo accostamento questa lunga partita sul tema sul tema di Bach su chi lo assorbe meglio chi sa farlo più suo chi lo sa metabolizzare meglio beh c'è una testimonianza importantissima ed è nasce dal travaglio del povero Piovesan che fa una commissione commissiona un brano sacro da eseguirsi in San Marco e quindi si aspetta che cosa qualcosa che faccia serata come si suol dire quando Stravinsky finisce il cantico un sacro me glielo manda si trova davanti 20 minuti di musica Piovesan è disperato a questo punto come faccio lo prega in ogni modo ma almeno no Stravinsky sarà inflessibile ma allora si potrebbe magari metterci insieme chiede Piovesan no la sinfonia di salmi la messa assolutamente no non se ne parla nemmeno sarebbe assurdo perché è vero ha ragione non possiamo immaginare di ascoltare che abbia un senso mettere nello stesso concetto la sinfonia di salmi e il cantico un sacro no non si può fare questo perché e allora Stravinsky alla disperazione del Piovero Piovesan risponderà con una lettera che secondo me ha una grandissima importanza della quale ora vi leggerò un tratto perché questa lettera ci dà la chiave per comprendere il senso profondo della musica contemporanea per musica contemporanea intendo dire dopo quella svolta impressa al linguaggio musicale sì in parte dodecafonico eccetera ma quella che è la nuova densità direi l'aumento del peso specifico dell'esperienza sonora da un certo momento in avanti sentite cosa dice in questa lettera se lei e la sua organizzazione vi foste aspettati un pezzo sostanzialmente più lungo non avreste dovuto commissionarlo a me oggi perché perché l'attuale indirizzo contrapuntistico della mia musica e si tratta di cosa ben nota mi obbliga a concepire la durata di una composizione entro limiti ristretti la cosa dipende dalle esigenze e dalla possibilità dell'orecchio umano perché questo genere di musica è della massima densità questo significa fra l'altro che questa musica è anche quella che richiede il maggior impegno per essere composta per illustrarle il mio punto di vista vorrei indurla a considerare le opere di Schoenberg e di Webern e qui c'è l'intuizione capitale di una evoluzione che Stravinsky considera irreversibile dell'ascolto non solo del lavoro della composizione ma dell'ascolto è cambiato qualche cosa radicalmente nell'esperienza musicale e questo è spiegato in questi termini in questa lettera grazie 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 grazie